Benvenuti a tutti ragazzi, con questo nuovo video del vostro XBREADS Ed oggi, ed oggi, ed oggi, ed oggi Guardate, guardate, guardate Uuuuh, assemblazione, assembramento Assembramento del PC, assembramento Allora, raga, ecco qua tutti quanti Mascherina, ce l'abbiamo Schietta madre che è fighissima Tanta roba Il bellissimo discusso alimentatore della Thermaltake Vediamo un po' come se la caverà Schietta video di Cristo RAM, ce l'abbiamo a 16GB Amix 500 SSD Rezen 5 3600 Case, ragazzi, il case è enorme È veramente, lo vedete dentro, lo vedete Guarda qua Mamma mia Pure lo spazio per l'alimentatore, incredibile Ecco abbiamo il vecchio PC dove Incinculeremo il dissipatore e gli hard disk E iniziamo Raga, ho acceso la luce, almeno si vede un po' meglio Il problema è che Mi sta male ora, mi ho iniziato a piacere La cartina e le cose, però Tocca a fare colazione Eh, quindi Marco, un po' di veniscio per tu a mangiare, no? Un po' Simone Eh, eh, eh Si mette una CPU, ok? Guardate qua, sulla scheda madre C'è questa Cazzo di freccetta, ok? C'è la freccetta anche qui, ok? La incastrate, easy Ovviamente questo deve essere tirato su, non tirate giù, ok? Adesso vedi che non si leva più, è incastrato Metta a fuoco, ok? Tirate giù Olè Messa Hai visto quanto è facile? La peculiarità di questa scheda madre È questa cosa qui Quando mettete le ram, ragazzi A parte che fa schifo Non è vero Però, nel senso Questa parte, ok, si può alzare Vedete così Tac Per mettere la scheda madre Adesso l'ho alzata Si, metti Leva la mano Leva la mano Adesso sto a farvi Si può alzare E poi la rimettete giù Mentre Questa parte invece Non si può alzare Perché è bloccato Quindi fate attenzione Spingite molto forti Non ci vede pure Che è rotto questo No, è bloccato Quindi alzate questo qua E spingite un po' più forte Allora, intanto installiamo La scheda madre nel case Vedrete Ma perché non è ancora messo il dissipatore? Perché? Perché la scheda Eh sì, la scheda video Sì, ciao La pasta termica Ce la stanno portando Quella buona Perché ci siamo dimenticati Ok? E quella del dissipatore stock Fa abbastanza schifo Al cazzo Quindi lo metteremo dopo il dissipatore Appena ci portano la pasta termica Quella buona E intanto qua Procediamo con il montaggio E tutto quanto Ragazzi Cosa fondamentale Mettete le vite Ok? Saldate la scheda madre Al case Ok? Con le viti Che ovviamente Le danno in dotazione Le dovrebbe da tipo La scheda madre O il case Chi è? Chi è che dà le vite in dotazione? Il case? Il case dà le vite in dotazione Ok? Quindi State molto attenti Se non sapete fare le cose Ragazzi Sta qua tanto Il libretto Di tutto il case Su come mettere le cose E se volete Prendere per esempio Il mio case È perfetto Tutte le spiegazioni Quindi Masterbox TD500 mesh Easy Complicatezza di mettere la mascherina Della scheda madre Perché non entra Era meglio mettere la prima Ora rilevamo tutte le vite La rimettiamo prima Quel cazzo Quel cazzo Io non ce l'ho nemmeno A posto Non c'è la mascherina del tuo? Non l'ho messo A che serve in pratica? Un cazzo A polvere Sì Sì Vabbè Vi aggiorneremo Appena riusciremo a mettere Sì Da metterle è strano Fammi sentire È gomma Sì Ma che cazzo Divano Divano? Ok Ho un divano Come una mascherina Ottimo Adesso siamo riusciti a mettere La mascherina È il problema Adesso provarci a vedere Giando da questa parte Facendo molto figo Perché giro Allora È stata messa Il problema È che ha questo effetto Cuscinetto Ora è Adesso voi non so Vedete perché adesso Abbiamo diciamo Installato la scheda Però comunque Va un po' così Perché c'è un cuscinetto Alto così Quindi Era un po' difficile da mettere Però Dai vabbè Sti cazzi Basta che entra Infatti qua abbiamo Tipo sforo tutto il case Che non entrava Da davanti Però l'abbiamo messa Aghietro Quindi vabbè Tanto sta parte Non la vedrà mai nessuno Anche questa parte Ci sta Ci sta L'alimentatore Probabilmente Con le vento Ragazzi rivolte in giù Però Nei casi Si possono anche mettere Rivolte in su Ecco Il tuo caso è chiuso Dopo Però Visto che io Sopra è chiuso Do cazzo va l'aria Ok Sotto invece è aperto Quindi va bene Ho un po' di problemi Qui a mettere le viti Come sempre Come sempre Ogni cosa che ne montiamo Abbiamo dei problemi Ok Sono stato Uh Guarda come va dentro Come un burro Bene bene Speriamo che non mi demonetizzano il video Già non guadagno un cazzo Ma di mezzuno Quei ragazzi Dietro è proprio spazioso a merda Cioè Qua si fanno Gli hard disk Dietro SSB Ci sta E' al montaggio del Dissipatore Che useremo adesso Con lo stock Per oggi E con la sua pasta termica E tutto Poi L'andremo a cambiare Nel corso dei mesi O tipo Tra un mese La cambierò E metterò quella Fatta bene Di pasta termica Perché adesso Non ne siamo proprio Non l'abbiamo materialmente Ecco Ci siamo dimenticati Praticamente Deve prendere quella buona Quindi useremo quella Tanto stock Tanto vale Per quei Per due tre mesi Dura raga Pure un anno dura Però io la cambierò Da due tre mesetti E metteremo quella buona Poi del resto Sta procedendo molto molto bene Difficoltà di montare un dissipatore Con il nostro metodo A croce Corpa di Simone Devevo montarlo prima Ma invece lo stavo a montare qua dentro Un po' più complicato Dai ci cercavamo Di riuscire a metterlo qua Tutti sti Tre pin stanno messi bene Pin là come cazzo Si chiamano E i vidi L'unica cazzo di vidi E questa qui Non riesce Riesci a farle entrare Per tutto Dietro stanno tutte e tre bene Questa qua sta a metà Le bestemmie partono Che preferisco cambiare Infatti Non cado Sto già bestemmiando Spiegaci Spiegaci Bettini Sta a morire Come al sushi Proprio emotivi Ragazzi Tutto a posto Il dissipatore è stato messo benissimo Nei quattro buci Quindi dopo mezz'ora Bucio di culo Bucio di culo Ci abbiamo messo a farlo Ovviamente Ovviamente Ma tocca mettere l'alimentatore Che non è modulare Quindi Hanno un treccio di cavi Però a noi non ci frega un cazzo Perché abbiamo tanto spazio qua Facciamo con l'installazione Dei miei hard disk Due tera black Un tera blu Beh Bettins Facci vedere come si montano Ma il cazzo Sto ancora a capire Grazie alla dotazione Del case Ci danno due cavisata Noi abbiamo altri due Però prendiamo questo nero Perché quello blu È un po' troppo tamarro Prendiamolo nero Ok si sfondiamo tutto Ottimo Bene così Bene così un cazzo Non si capisce niente Ma si può pure levare questo qua comunque Ma porco Infatti mi stavo a chiedere Ma perché c'era stuposo Ma l'hai lasciato Sì io l'ho fatto apposta Volevo vedere se capivi Che toccava toglierlo Ma forse farlo di in realtà Vabbè ormai Ti ho passato tutti gli ssd Eh tanto ormai Ma quello la Della Come Si chiama il migliore ssd del mondo NVMe NVMe Migliore ssd del mondo ragazzi Per chi ha solo Windows Nelle ssd Vendete l'NVMe Questa 80 euro E siete felicissimi A posto L'hai schiaffato dentro Perfetto Anche spaccato tutto Ma come spaccato tutto E' calla Guarda come si regge Allora riga Le ram le ho messe io Ce l'ho fatta Stavo per morire E mettere perché Dissipatore Porco disse Mi bloccava sta parte Allora Come stanno messe Come stanno messe Le hard disk Bene bene Ho messe bene io Scusa Si Bravo Grazie al cazzo Non monta di tre Dei compito Allora Come stanno messe I hard disk Stanno messe I fili Li abbiamo messi Allora Li collegiamo tutti Mettiamo la scheda video Ah ma l'ho dato pure Per controllare Le 3gp Ma non so come Cazzo funziona Lo scopriremo insieme A buon punto Scusate per luci Ma mi sa che Non ci stanno più Stanno abbiamo messo La scheda video Stanno per mettere E tutti i cavi Scusate collegati Capo dell'audio Tutti i pin Tipo qua sotto Il kpop management Beh dai Ci sta Ci sta Dai Non ci sono troppi Fili in giro Per adesso C'è questa uscita Spettacolare Per la cpu Che non dà problemi Quindi qui le ventole Sono comunque bloccate Quindi Le fasceremo Un po' più Attaccate al case Però va bene così E stiamo montando La scheda video Ce la possiamo fare Ce ne bastate due ore E mezza La scheda video montata SSD Montiamo E poi monteremo Un'altra ventola qua Così ne abbiamo quattro E sopra Non ci monteremo niente Per adesso Poi magari in futuro Ne monteremo Altri tre sopra Tu questa ma Che cazzo stai a vedere Serve qualcosa Roba 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 L'abbiamo Un po' smontato Quel pc Stiamo molto divertendo Devo dire Ancora sono Guardiamo un po' l'orario 8.02 Abbiamo iniziato Alle 5 Precise Stiamo stendendo La cartina Per fare la rapina Nella casa di carta Funziona Abbiamo chiesto aiuto Altri dai nostri amici Per cercare di Far funzionare Le ventole Visto che le ventole Davanti Le due ventole Non funzionano E l'alimentatore Faceva un po' di rumore Perché non abbiamo Messo bene Quindi adesso Dovrebbe funzionare bene E a parte Le ventole non funzionano La scheda madre Si accende da sola Con la corrente Quindi bisogna Un altro sistema Al bios Però del resto Dovremmo stare Tutto a posto Anche solo Cable management E via Facciamo l'accensione Questo sta a morire Ragazzi Sono passate 7 ore Da inizio del pc Abbiamo finito Il problema è che Dava rumore Noi pensavamo Che era l'alimentatore Noi tutti dicevano Che faceva rumore Invece no È l'hard disk Cazzo Perché non li avevamo fissati Quindi mi tocca Fissarli Poi abbiamo Un black Che gira un po' più Velocemente L'altro Quindi può essere Quello che fa rumore E davano fastidio Quindi adesso Sono tipo le 11 Vediamo di fissare Gli hard disk E vediamo come va Però del resto Fa tutto bene Raga dopo Un giorno di lavoro E una sete rosa Perché mi hanno incolato La mia Siamo riusciti A finire il pc E allora Esteticamente è bellissimo Raga Quindi ci sta Però voi sentite Questo rumore di sottofondo Che ora ragazzi È bassissimo Questa notte Stava al triplo E voi direte È l'alimentatore Che fa schifo No L'alimentatore È perfetto È questo hard disk Che ho messo adesso qui Questo era Il 2TB Quindi è un hard disk Della madonna Però Gira troppo velocemente Quindi fa vibrare Tutto il pc Perché l'ho messo qui Perché dietro Dove stanno tutti gli hard disk Mi faceva un rumore Tipo Un'astronave Che stava per partire Togliendolo Non mi fa nessun rumore Neanche l'alimentatore Però ragazzi Non è che posso Stare senza hard disk Quindi Ho fatto un compromesso L'ho messo qui Il rumore è un po' Attenuato Però comunque Dovrò comprare Una specie di rivestimento In gomma Perché comunque Bisogna tenerlo fermo In qualche modo Questo Allora Le ram funzionano Le tre ventole funzionano Ho messo un'altra ventola Qui dietro Niente RGB Niente di niente Molto facile E voi potete dire Ok Breeze Hai messo L'hard disk Però sotto le ventole Della scheda video Non può causare Un qualcosa Allora Sì Nel breve periodo Però non succederà Mai niente Comunque La scheda video Scalda massimo A 30 gradi Ok Quindi L'aria che butterà fuori Non è che Mi va a surriscaldare L'hard disk Ok Però comunque Nel lungo periodo Di 6 7 8 mesi Magari Può dare problemi Quindi io Tra qualche Adesso vedo un attimo Qualche settimana Devo un attimo Migliore a sta parte C'è un alone Di manate Devo pulire tutto Scusate Allora Ho già scaricato Steam Origin Tutto quanto Ho attaccato però Il power link A una ciabatta Quindi voi potrete dire Adesso però Non funziona bene Ok Dopo Cambierò Questo pomeriggio Toglierò Questa presa qui E Lascio Cioè ci metto Un'altra presa normale Dove attaccherò Il power link Che adesso Mi da un 30 Di download E un 3 Di upload Mettendolo Direttamente Alla presa elettrica Mi dovrebbe alzare Un po' L'upload Un po' Il download Ovviamente Comunque Potete vedere La mia faccia Stremata Ieri Dalle 5 Abbiamo iniziato A montare il pc Fino A mezzanotte E mezzo Poi Funzionava tutto Però Faccia rumore Quindi Però Mi sono messo un po' Con le cuffie Eccetera Stalla tutti i driver Le cose Non ho finito un cazzo Non ho finito Un nuovo Di cristo 144 verse Ci sta A parte quello Sono molto soddisfatto Del pc Sono molto soddisfatto Che le persone Dicevano Che l'alimentatore Faceva rumore Esplodeva in mano Di qua di là E silenzioso Merda ragazzi Voi sentite Questo ronzio Di sottofondo Ecco Non è lui È l'hard disk È il black Quello che costa 150 euro Che gira troppo Velocemente E finì Fa durare il pc Bastardo Devo comprare una casa Che non me l'ho fatta Ne fermo Però anche Nell'apposito Case Diciamo Degli hard disk Dove aveva anche un blu Mi fa Fa così Mortaccio Su Quindi Allora L'impresa più Ardua È stata quella Di montare Il dissipatore Con scheda madre CPU E cazzi e mazzi Gestala Del case Quindi Se dovete montare Un dissipatore Ragazzi Fatelo prima Vi prego Però noi Abbiamo avuto Questo diciamo Contrattempo Che il nostro amico Ha detto Alla Monteggia tutto Vi porto un dissipatore Nuovo Con la pasta termica Nuova E montiamo Il dissipatore Però poi abbiamo deciso di non farlo Oggi Lo faremo magari un altro giorno Cambiare il dissipatore Ragazzi Quindi se vedete Un'ora e mezza Cercate a vita A croce Perché A vita una Si stacca l'altra Casino Allora La temperatura Della CPU Ragazzi è alta Va a un massimo Di 70 gradi Un minimo Di 50 Voi direte È altissima Ok Sì È altissima Infatti Devo cambiare il dissipatore Me lo porteranno In settimana Un altro Me lo regalano Qualcosa di figo Devo cambiare anche Pasta termica Comunque la pasta termica Del dissipatore stock Che cazzo ci fai Dunque ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Noi ci vediamo un prossimo video Un prossimo video upgrade Anche del pc Perché adesso dovrò anche upgradearlo Non vi preoccupate Se voi vedete Allora Io vorrei finire il video Però c'ho altre cose da dire Se voi vedete il cable management Che fate Oh cazzo Il cable management Fa schifo al cazzo Lo so Lo so Lo so Lo so Lo so Un attimo Ho dormito due ore Per fare sto lavoro Ok Un attimo Un piano piano Sistema del cable management Perché ho il pc In questo modo Con Con la vetrata Che mi riflette Che quindi ho i cavi Però dietro Che si vedono Però comunque qua c'è Diciamo Cazzo C'è la libreria Che comunque non li fa vedere Però dovrò anche passare Tipo qua sotto Qua tipo C'ho dei passaggi strani Per mettere lì Ci penso a tutto dopo Comunque Ragazzi Brizzo è stanco Noi ci vediamo al prossimo video Bella a tutti Qui si vediamo al prossimo video Qui si vediamo al prossimo video Qui si vediamo al prossimo video